Carissimi e gentilissimi genitori, buongiorno. Mi spiace non poter essere presente fisicamente, ma non voglio tralasciare un'occasione di saluto, rapido, sintetico, ma di saluto. Sono attualmente il dirigente dell'Istituto Castigliano, seppur in regenza, con molto piacere vi porgo il mio personale saluto. Il nostro istituto è un istituto professionale che ha però al suo interno molte anime, molti indirizzi, molti percorsi che hanno un denominatore comune, la particolare attenzione ai nostri studenti e ai vostri figli, sia in termini di accoglienza che in termini di preparazione professionale. La riforma dei professionali di recente emanazione ha fatto sì che la scuola, il castigliano in particolare, abbia sviluppato, ha sviluppato, sta sviluppando percorsi di progettazione, di programmazione sempre più mirati allo studente, sempre più con lo sviluppo all'attenzione dello studente, verso lo studente. E quindi i nostri classi, i nostri studenti, i nostri docenti sono particolarmente attenti a quello che è il percorso formativo, all'offerta formativa dei vostri figli. Vogliamo, desideriamo, tutti quanti i miei studenti, tutti quanti i nostri insegnanti, vogliono far sì che i nostri ragazzi sviluppino quelle che si chiamano le soft skills, quelle che si chiamano comportamenti attenti, responsabili, perché solo attraverso un forte interesse, una forte partecipazione per quello che loro stanno facendo, a scuola, in classe, ma anche non solo a scuola, non solo in classe, ma anche fuori dalla scuola, questa attenzione deve essere sviluppata, deve essere estremamente partecipata. I nostri ragazzi hanno bisogno di crescere con le conoscenze, certo, e le competenze che derivano dalle discipline, lo studio dell'italiano, della matematica, della fisica, della meccanica, dell'igiene, eccetera, sono ovviamente importanti e ovviamente essenziali, soprattutto per poter proseguire nella scuola, per poter proseguire il percorso di studi, ma sono altrettanto importanti le competenze di carattere comportamentale. Il comportamento, il senso di responsabilità, la partecipazione, l'attenzione e il rispetto per sé e per gli altri sono misure, sono percorsi di fondamentale importanza. I nostri ragazzi devono imparare attraverso il vostro aiuto e attraverso il nostro progetto scolastico, devono imparare, devono sviluppare queste competenze. Quindi benvenuti, grazie per aver dedicato il vostro tempo alla nostra scuola, per la visita, per l'orientamento che voi dedicate oggi pomeriggio alla nostra scuola, visitate i laboratori, visitate le aule, parlate con gli insegnanti, cercate insomma di capire quello che può essere veramente il bene e l'interesse per i vostri figli. Dopodiché, una volta iscritti, massimo impegno possibile, massima attenzione possibile alle discipline, alle materie, ma come già detto a un buon comportamento, un comportamento responsabile. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona visita dei nostri locali, del nostro struttore. Arrivederci a presto.